A piedi in bicicletta con il trasporto pubblico, con i veicoli elettrici per vivere la città nel pieno rispetto dell'ambiente attraverso 60 appuntamenti tra convegni, mostre ed esposizioni. Torna dal 16 al 22 settembre la settimana europea della mobilità sostenibile nella capitale, il più importante appuntamento annuale in tema di strategie che favoriscono il rapporto mobilità-sostenibilità negli spazi urbani. Diversi gli appuntamenti in programma dalla giornata europea del car sharing in Campidoglio all'open day Metro CEA, attac dai forum sulla mobilità sostenibile alla backwalk, ovvero la pedalata con il blogger Nicolò De Vitis tra le vie del centro storico, fino al concerto di Simone Cristicchi ai Fori Imperiali. La settimana rappresenta anche il racconto di un anno di lavoro, spiega l'assessore all'ambiente Stella Marino. Dopo un anno di lavoro finalmente possiamo dire di aver iniziato a mettere in campo anche delle politiche per la mobilità sostenibile, quindi il PGT, il nuovo piano generale del traffico urbano, che va in quella direzione e iniziative che tendono, hanno il grosso obiettivo di spostare la mobilità, da una mobilità su mezzo privato, su gomma, dalla macchina a tutte le altre forme, che è l'elemento principale che aiuta anche l'assessorato all'ambiente perché ovviamente il tema prevalente è l'inquinamento acustico-atmosferico della mobilità privata, diminuire la mobilità privata ci aiuta anche a un punto di vista dell'inquinamento. Vogliamo portare avanti un modello di vivibilità diverso per questa città, dichiarato l'assessore alla mobilità Guido Improta. Noi perdiamo 135 milioni di ore ogni anno a causa del traffico. Questa è una città dove ci sono 20.000 incidenti ogni anno con un numero elevatissimo di morti, parliamo di diverse centinaia di morti. Sono i numeri di una battaglia, di una battaglia per la conquista di uno spazio quotidiano che è oggettivamente troppo limitato se tutti quanti lo vogliamo occupare con la nostra macchina. Noi abbiamo un tasso di motorizzazione elevatissimo, abbiamo oltre 970 macchine ogni 1.000 abitanti. È evidente che questa modalità ci porterà a bloccare la città di Roma, ma questo è un problema che riguarda tutte le aree metropolitane. Per cui noi come Roma ci facciamo carico di un modello di vivibilità della città diverso in modo che possa essere poi messo a disposizione anche di altre realtà italiane.